Ieri abbiamo avuto l'occasione di ascoltare dei soggetti interessati a questo mondo, che è un mondo molto difficile, complesso, che riguarda soprattutto i nostri figli da zero ai sei anni. Ieri tra l'altro c'è stata anche l'audizione in commissione dell'Associazione Finesi, che mette insieme tanti asili. Da loro sono arrivate due richieste. La prima, quella di una interlocuzione partecipata, soprattutto della parte tecnica di questo mondo, con l'assessore Fioretti, per avere certezze sul futuro, sulla riapertura di settembre o in mesi successivi, per capire in quali modalità chiedono appunto questo incontro all'assessore regionale competente. E poi delle modifiche che devono essere apportate nel progetto di legge 118, perché sono strutture che hanno chiuso da marzo, che probabilmente chiuderanno ancora fino ad agosto e poi forse fino a settembre, quindi per prorogare le tre mensilità che a loro saranno riconosciute, quindi non soltanto marzo, aprile e maggio, ma anche le mensilità successive, per allargare un pochino il campo, perché l'articolo 2 di questa legge si riferisce alle piccole e micro imprese, quindi fino a 10 dipendenti, ma tutti questi asili, questi nidi, eccetera, se rispettano la normativa regionale, la 66 del 2000 hanno tutte più di 10 dipendenti. E poi naturalmente anche per allargare questa forchetta economica, che di 2000 euro è sinceramente briciole rispetto alle perdite che hanno avuto. ricordiamo che sono nidi di infanzia in cui i bambini non versano più le rette, non le versano più dal mese di marzo e probabilmente non le verseranno fino ad agosto e quindi naturalmente ci sono dei costi fissi a cui queste strutture devono far fronte. Ecco perché noi presenteremo come Partito Democratico degli emendamenti correttivi e in maniera propositiva a questo progetto di legge. Grazie a tutti.